Proseguiamo le nostre impressioni dal pre-ritiro qui a Formaci e abbiamo qui ovviamente il capitano Zizioli. Capitano, l'anno scorso c'è stata una stagione straordinaria, stagione praticamente impeccabile. Quest'anno sarà ancora più difficile perché bisogna riconfermarsi. Come hai trovato le tue compagne? Sono sempre cariche? Sì, il gruppo direi che è sempre bellissimo, siamo quelle dell'anno scorso più due innessi, mi sembrano due brevissime ragazze, per cui ripartiamo da dove abbiamo finito, spero. Sicuramente vincere è stato bellissimo, quest'anno sarà molto molto difficile riconfermarsi, però ci alleneremo duramente per cercare di ottenere nuovi traguardi. Vi carica di pressione il fatto di aver avuto una stagione così importante l'anno scorso e magari appunto i tifosi si aspettano qualcosa di altrettanto soddisfacente? Sì, sicuramente un po' di responsabilità in più c'è perché l'anno scorso siamo state la new entry penso del campionato e quindi quest'anno, come dicevamo prima, dobbiamo riconfermarci, quindi sicuro la gente si aspetterà molto da noi. Comunque noi lavoriamo sempre al massimo e speriamo che la stagione sia soddisfacente. Ci sono squadre che si sono rinforzate molto, mi vengono in mente Verona e Mozzanica per esempio. In che squadre tu vedi le possibili antagoniste per il titolo? Beh, credo sicuramente il Verona perché comunque è ragazze di esperienza, ma anche il Mozzanica soprattutto direi per il mister che sicuramente porta una carica agonistica non indifferente. Comunque le partite sono da giocare tutte fino alla fine perché se poi si perdono i punti contro le ultime in classifica comunque poi si pecca lo stesso. Per cui dovremo giocare sempre al massimo e noi chiaramente dovremo puntare sul gruppo che c'è perché ci conosciamo, quindi forse il nostro vantaggio di quest'anno sarà questo. Quanto è dura ricominciare dopo le vacanze? Eh, un pochino, un pochino però dai, bello così, comunque avevo voglia di ritrovare la squadra e le ragazze per cui si ricomincia nuovamente. In bocca al lupo allora. Crepi il lupo, grazie e benvenuto a te. Grazie, grazie.